Io ho scoperto la passione per la recitazione all'età di 17 anni, ero al liceo e frequentavo questi laboratori annatoriali a scuola, poi dopo mi sono diplomata e ho cominciato a lavorare in un piccolo teatro romano e il cinema sì, lo praticavo ma da spettatrice e ricordo ancora il primo film importante della mia vita, la spettatrice che fu l'odio al cinema Greenwich a testaccio, ancora me lo ricordo, però insomma è stata l'iscrizione all'università, in Dams che mi ha aperto davvero le porte del cinema, avere la fortuna, secondo me, io la reputo tale di poter assistere alle lezioni del professor De Vincenti, della professoressa Lucille Albano alle 8 del mattino e scoprire così le origini del cinema, le avanguardie, il realismo poetico francese, il neorealismo, la nouvelle vague, la new Hollywood, fino ad arrivare ai nostri giorni, insomma è stato veramente un viaggio meraviglioso che mi ha affascinato e continuo ad affascinarmi e devo dire che ne sono completamente vittima e ora che insomma faccio parte di questo meraviglioso mondo e credo di fare il lavoro più bello del mondo. Gli aspetti più interessanti e quelli più spaventosi e terribili del mestiere dell'attore? Sicuramente l'aspetto più interessante è il momento della costruzione del personaggio, l'attimo in cui ti arriva la sceneggiatura, la legge, ti fai una prima idea, poi una seconda, terza, quarta volta e te ne fai un'altra, cominci a viaggiare nella tua testa pensando, ritrovando quel personaggio tra le persone, nei libri, nelle letture e quindi ti fai il tuo personaggio. Poi dopo questo personaggio subisce ovviamente delle trasformazioni in base all'idea che il regista ha di quel personaggio, in base alle relazioni che quel personaggio ha nel corso del film, nel corso della storia, in base appunto alla relazione con l'attore con la quale devi fare determinate scene, insomma tutto questo processo di costruzione, tutto questo processo creativo è la parte più affascinante del mio mestiere, anche perché subisce dei cambiamenti continui, non è mai detto che sia in un certo modo, anche una volta che il film è consegnato in realtà poi tu hai in qualche modo la tua idea del personaggio, cerchi di giustificarlo, cerchi di condannarlo, insomma è veramente incredibile, poi a teatro a maggior ragione, insomma ogni sera può diventare una cosa diversa, può avere una sfumatura diversa e un'accezione diversa, un colore diverso che dà una tridimensionalità maggiore al personaggio alla storia. L'aspetto più mostruoso, senza ombra di dubbio, è il giudizio, il giudizio in premessa di me, quando mi guardo ogni volta e giudico la mia esecuzione, è sempre un'esecuzione a mio avviso fallimentare, sono veramente rare le volte in cui mi sono guardato e ho detto beh sono stata bene, ecco non dico brava, sono stata bene, generalmente io partecipo alle mie anteprime e subisco delle vere e proprie torture fisiche perché mi contraggo tutta, devo andare dal posturologo il giorno dopo, non solo il giorno dopo, anche i giorni a seguire perché mi si contrae completamente il collo e perché guardo il film e sono tutta irrigidita, per cui è il giudizio verso me stessa e non è mai clemente, ma secondo me non potrebbe esserlo, è proprio insito nella natura dell'attore, essere insicuro ed essere carnefici di se stesso, facciamoci pace con questa cosa. Come si diventa attore? È il modo migliore per fare l'attore? È una domanda da 7 miliardi di euro, perché credo che oggi ci siano veramente tante troppe accademie, tanti troppi laboratori, reality dove si ha l'illusione di poter diventare attore e la facilità di raggiungere l'obiettivo in realtà secondo me non è così. Per fare l'attore c'è bisogno di una grandissima dose di umiltà, una grandissima dose di autostima sicuramente, è una gran voglia di imparare, un livello di attenzione molto alto, bisogna essere sempre con le antenne dritte e bisogna lasciare da parte la presunzione, l'idea di saperlo fare. Secondo me se vuoi fare davvero l'attore devi partire dal presupposto che la cosa non la sai fare. Quando ero molto giovane mi ricordo avevo questa forma di brama, di voglia di dimostrare che le cose le sapevo fare. Ora sono arrivata a 40 anni e invece mi sento proprio che ho tanta voglia di dire a me io veramente un sabato non la so fare. Porto sempre dal presupposto e con il regista mi confronto sempre dicendo ma sarò in grado di fare questa cosa, quando lui mi dice la battuta va detta in questo modo ma io la so fare, la so dire. Insomma c'è bisogno di essere accompagnati, c'è bisogno di sentirsi in qualche modo umbilico tra la consapevolezza e l'inconsapevolezza e poi comunque c'è bisogno di talento sicuramente, il talento è di grande, è una grandissima, un grandissimo ascolto. L'attore soprattutto è ascolto, quindi non chiudersi ma aprirsi a tutto, tutto quello che ci capita, tutto quello che viviamo, tutto quello che respiriamo, tutto quello che sentiamo, i nostri i nostri partner, i nostri compagni di viaggio, il regista, tutti insomma, tutti fanno parte di un processo creativo e l'attore deve comprendere che non è solo, un attore da solo non va da nessuna parte, è assolutamente un'anima nel buio e invece l'attore brilla nel momento in cui ha tutto un coté di persone intorno ai quali si può aggrappare, si può appoggiare e comprendere questa cosa non è semplice, non è immediato, però insomma una volta che ci si arriva a comprenderlo nel profondo penso che sia un po' raggiunto uno stato di apparente pace all'interno della quale puoi viverci bene e serenamente e sviluppare al meglio le tue possibilità di attore.